Tutti noi giornalisti che da tempo abbracciamo il tema della salute e della sanità lo conosciamo e in qualche modo lo abbiamo anche emblematizzato come il filosofo della medicina. In realtà il professor Ivan Cavicchi, il nostro odierno ospite, è sì un filosofo della medicina ma è sociologo, è saggista e soprattutto è una delle voci veramente più autorevoli nel campo della sanità, della salute e della medicina. Insegna sociologia dell'organizzazione sanitaria, logica e filosofia della scienza presso l'Università Torvergata di Roma. Il suo ultimo pamflet che poi è un ebook, lo facciamo vedere, eccolo, titola Medici contro cittadini, un conflitto da risolvere, Castelvecchi editore. Con Ivan Cavicchi si discute, tentiamo di farlo nel modo migliore di salute, di sanità e lo facciamo a chiarissime lettere. È il nostro graditissimo ospite, ma intanto la nostra sigla. E' dunque un piacere, aggiungo che è anche un grande onore avere ospite il professor Ivan Cavicchi. Veramente, me lo lasci dire, è un privilegio poterla avvicinare e intervistare. Buona giornata, professore. Buona giornata e grazie per le sue gentilezze. Herman Ness diceva, mi hanno fatto tanti complimenti che affondai. Spero di non affondare. Va bene, senta, al di là dei complimenti, io vorrei partire proprio da quel libro, il suo ultimo pamflet, come si suol dire, un ebook, Castelvecchi editore, che invetti i medici contro i cittadini. Per quale motivo, professore, ha sentito la necessità di entrare in questo merito? Ma il ministro Nordio, ministro della giustizia, ha sentito il bisogno di istituire una commissione di esperti per affrontare il tema del contenzioso legale. Il contenzioso legale è quello che contrappone i cittadini agli operatori e soprattutto ai medici. lo ha fatto perché, dati alla mano, si è visto che, nonostante le leggi che sono state fatte in questi ultimi anni, anche a protezione degli operatori, le leggi non hanno funzionato un granché. Anzi, hanno tradito un effetto paradossale, perché il contenzioso legale, invece di diminuire, è aumentato. Quindi, l'idea di Nordio, per me, è un'idea che va accolta positivamente. Il punto è che, se le leggi fatte fino adesso non hanno funzionato, è perché avevano delle aporie, degli errori, avevano delle ambiguità, non erano ben impostate. Quindi, il problema vero è come fare a recuperare i limiti che fino adesso sono stati percorsi su questa problematica. Ricordando, innanzitutto, una cosa. Il gioco per la medicina è radicalmente cambiato nel momento in cui entrano in pista, entrano in scena, i diritti dei cittadini. Noi, nella nostra Costituzione, abbiamo il diritto fondamentale alla salute, che è disciplinato dall'articolo 32. Ma lei non può capire che l'ingresso dei diritti, che vuol dire un'idea nuova di malato, che vuol dire un'altra idea di complessità, che vuol dire l'obbligo di avere una relazione, che vuol dire consenso informato, non è stato, tra virgolette, accolto come un input di cambiamento. Ci sono grossi problemi, si fa fatica ad adeguarci ai diritti dei malati, però non possiamo fare a meno di considerare i diritti dei malati. E qui il problema è trovare le soluzioni giuste. Le soluzioni giuste sono quelle che devono garantire il malato, prima di tutto i suoi diritti, perché è facile multare il malato mettendogli delle ammende, per esempio. Ma il problema è, e l'altra cosa alla quale personalmente tengo molto, è di evitare il rischio di compromettere il rapporto fiduciario con la gente. Perché la mia impressione è che per trovare delle soluzioni legali, cioè per ridurre il conflitto sociale ad una lite giudiziaria, il rischio che si corre è di compromettere il rapporto fiduciario, che è alla base, lo sottolineo, fino adesso è stata la base della legittimazione sociale dei medici di tutti gli operatori. Non c'è dubbio. Senta, Professor Cavicchi, ma allora, proseguendo su questa strada, cosa pensa di quell'appello, di quel documento firmato da quei medici, economisti, personalità, dirigenti, sul tema della crisi del sistema sanitario nazionale? Perché l'un tema va a inserirsi in quest'altro che è ancora più grande. Ha ragione. Infatti i mondi sono interconnessi. Il grande errore spesso è di affrontare questi problemi a mondi separati. La medicina è interconnessa con la sanità, la sanità è interconnessa con l'università. Quindi è un approccio giusto questo di vedere in maniera interdipendente le dinamiche. Allora, di questo appello cosa penso? Allora, prima di tutto le devo dire che su un dato oggettivo l'appello ha ragione. La sanità in Italia non è finanziata in modo adeguato. Usiamo questo termine. Non è che è sottofinanziata. Non è adeguatamente finanziata per i suoi bisogni di spesa. E quindi è una tra le sanità che costa meno in tutta Europa. Insomma, ci sono paesi europei che hanno altri numeri rispetto a noi. Questo è un dato oggettivo. Però, io, la domanda che ho fatto anche pubblicamente ai firmatari di questo appello è molto semplice. Io sono d'accordo che dobbiamo rifinanziare la sanità. Ma per cosa dobbiamo rifinanziare la sanità? Per confermare gli errori fatti fino adesso o per rimuoverli? Per cosa dobbiamo rifinanziare la sanità? Per rimettere al centro l'articolo 32 o per andare avanti di questo passo, cioè confermando che il diritto fondamentale alla salute non è più fondamentale. Perché se coloro che firmano questi appelli non rispondono a queste domande corrono il rischio di diventare dei populisti. Cioè gente che fa la battaglia facile. Chi è che è in disaccordo per rifinanziare la sanità? Ormai la spesa sanitaria è diventata enorme. Quindi la gente mette le mani nel portafoglio. Ma il punto vero è che dietro a questa sanità c'è una storia che è cominciata 40 anni fa con la riforma sanitaria nella quale di stupidaggini se ne sono fatte moltissime. E i problemi che abbiamo oggi sono le stupidaggini fatte che si cumulano. Perché non è che si azzerano. Procedono, si sovrappongono, creano ulteriori problemi fino a mettere a rischio la sanità di essere, come dire, punita sul piano della sostenibilità. Quindi è chiaro che bisogna rifinanziare la sanità pubblica. Però è altrettanto chiaro che ci sono degli errori, delle controriforme, vere controriforme sono state fatte, ben due, che hanno creato enormi problemi. Questo sbandamento verso il privato non piove dal cielo. Viene da una legge di controriforma che è stata fatta nel 1999. E di fatti, secondo me, siamo proprio quasi ai capolinea perché il privato, che quando serve potrebbe anche essere un'estensione, un'integrazione, ma di fatto è diventato un punto di riferimento per i cittadini. Come dunque salvarla la sanità pubblica e la sua sostenibilità se si affida tutto in mano al privato, che deve vivere di business prima di ogni altra cosa, professor Cavicchi? Allora, sul privato mi permetta di insistere su un punto. Per quanto mi riguarda non c'è una pregiudiziale ideologica. Anzi, le dirò in maniera molto pragmatica che tutto quello che aiuta a compiere il diritto alla salute è benvenuto. Lei ha usato prima un termine che mi è piaciuto molto, nel senso che ha usato il termine, se non sbaglio, estensione. Sì. Ecco, io anche la penso come lei. Per me, per esempio, le cliniche convenzionate, il convenzionato, per me non è un privato privato tradizionale, è un'estensione del pubblico. Ed essendo un'estensione del pubblico deve rispettare determinati criteri, criteri con l'accreditamento che vengono definiti, eccetera. Quindi la pregiudiziale non c'è. Però c'è una cosa. Io voglio capire, da questo governo, ma anche da tutti i governi che l'hanno preceduto, perché questo governo arriva a buon ultimo. Tutte le stupidaggini che sono state fatte sulla sanità sono state fatte nei governi precedenti. Cioè, questo è un governo che eredita una situazione compromessa. Ovviamente l'alimenta perché non ha idee efficaci per risolverla. Questo è vero. Però io voglio capire se all'interno, appunto, di un progetto di rilancio della sanità pubblica il servizio sanitario pubblico deve essere centrale o no. Cioè, voglio capire se il privato, qualunque esso sia, abbia un ruolo ausiliario che è un conto o abbia un ruolo sussidiario che è un altro conto. Le dico la mia opinione, io sono contro il ruolo sussidiario. Ma sa perché? Anche qui non c'è una ragione ideologica. Se io teorizzo il diritto alla salute, l'articolo 32, mi creda, glielo dico con cognizione di causa, io le posso affermare che solo il servizio pubblico può davvero garantire il diritto alla salute. Il servizio privato farà quello che potrà, ma quello che riesce a garantire il servizio pubblico, il privato, non ci riuscirà mai, anche per quanto faccia, per carità di Dio. Tant'è che tutta la letteratura internazionale, che non le cito per non annoiarla, ma parlo di letteratura internazionale di primo livello, di grande livello, ha dimostrato che ogni volta, che noi, innanzitutto ha dimostrato che più cresce la sanità privata, aumenta la mortalità. E questo non è un dettaglio di poco. Che significativi risultati di riduzione della mortalità ce li abbiamo col pubblico. E che ogni volta che tu prendi un punto di spesa pubblica e lo trasferisci sul privato, accanto a questo trasferimento ci sono delle conseguenze pesanti. Aumentano le disuguaglianze, aumentano appunto il grado di mortalità, eccetera. Quindi, la questione è vera. Non è integrare o non integrare. Integriamo quello che volete. Io voglio sapere una cosa. Il boccino, chi ce l'ha in mano? Il pubblico o il privato? Giustissimo, anche perché lei prima ha citato l'articolo 32 della Costituzione e vale la pena sempre tornarci a ribadirlo. Ma se vince il reddito, se vince chi ha i soldi, è solo che i soldi viene curato. Lei sa perfettamente che la gente si sta indibitando adesso pur di essere curata. Ecco, avrebbe mai pensato che si sarebbe arrivato a questo? Lei mi sta facendo una domanda dolorosa perché sono tanti anni che io mi occupo di queste cose. E lo so bene. E in tutta la mia vita mi sono sempre occupato di queste cose dalla parte del diritto alla salute, dalla parte della sanità pubblica, dalla parte dei più deboli, in qualche modo. E purtroppo, adesso che sono in là con gli anni, sto vedendo un progetto che sta declinando, non si sta affermando. Oggi il progetto di sanità pubblica corre dei rischi molto forti. Non si dimentichi che il mio ultimo libro, il titolo del mio ultimo libro era Sanità pubblica a Dio. Eh sì. E dire a Dio per me è stato tremendo. Ci ho pensato tanto, ho aspettato tanto, però alla fine ho detto no, bisogna dire le cose come stanno. Perché? Perché i processi che sono stati innescati in questi anni, lunghi anni, proseguono il loro cammino, si ingigantiscono, producono effetti collaterali abbastanza preoccupanti, mettendo a rischio la conquista legislativa. Perché il diritto alla salute è una conquista legislativa di incredibile valore, etico, morale, politico, eccetera. Quindi io credo che in realtà oggi il problema vero è salvare la sanità. la dobbiamo salvare, ma salvarla non significa aumentare i finanziamenti ad un sistema che ha bisogno di essere salvato. Dobbiamo fare il bagnino, ma fare il bagnino serio. Dobbiamo salvare la sanità. Per salvare la sanità. Anche perché, professore, anche perché ha visto, mi perdoni, ma la interrompo solo per farle notare che per salvare la sanità il governo sta ventilando dei tagli per l'adeguamento sismico, per l'antincendio degli ospedali. È inutile commentare questo, vero? Quello che è successo recentemente ce lo ricordiamo ancora. Quindi c'è anche questo pericolo o da una parte o dall'altra. Lei ha perfettamente ragione. Io le dico che il governo di destra che io giudico come un governo in quanto tale, cioè voglio dire, io voglio fare l'intellettuale, il mio mestiere è un mestiere che va fatto in autonomia, senza pregiudizi. Io mi rapporto alla destra come mi sono sempre rapportato alla sinistra e se lei ha letto le mie cose sa benissimo che alla sinistra non glielo ho mai risparmiate. Li abbiamo lette, li abbiamo lette. Allora, ci siamo intesi sull'approccio. Ecco, il governo Meloni eredita una situazione già compromessa e non fa null'altro che continuare, porta avanti le politiche precedentemente decise. le faccio un esempio. Ha rimesso il tetto alle assunzioni, ma il tetto alle assunzioni io glielo voglio ricordare a 23 anni, la prima volta che è stato messo è stato messo 23 anni fa, non dalla Meloni. Questo lo dobbiamo dire per onestà. Ha ribadito i tagli perché i 3 miliardi che ha dato sono 3 miliardi simbolici, nel senso che lei lo sa, seguendo queste cose, che il 90% di quei 3 miliardi sono già spesi e sono spesi non per i servizi, non per le liste d'attesa, sono spesi per rinnovare i contratti. Quindi voglio dire non abbiamo un intervento di rifinanziamento dei servizi, degli ospedali, ma santa miseria, in ogni pronto soccorso di ogni ospedale c'è la solita storia che la gente a momenti bivacca nel pronto soccorso. Perché? Perché probabilmente abbiamo fatto delle politiche di taglio dei posti letto senza criterio. Adesso paghiamo il prezzo. Perché noi passiamo le giornate nei pronto soccorsi? Perché se abbiamo bisogno di un letto di ricovero non abbiamo i letti a disposizione. Ma se non abbiamo i letti a disposizione vuol dire che ne abbiamo tagliati troppi. Questo è elementare. Quindi il governo Meloni prosegue le vecchie politiche sbagliate del passato le devo dire con molta sincerità da studioso senza un particolare know-how perché la destra non ha mai avuto un grande know-how sulla sanità. Chi ha avuto il grande know-how è la sinistra che l'ha anche speso abbastanza male. Voglio dire la sinistra ha avuto impegni riformatori pensiamo alla 180 la 194 ma la destra non ha questa storia quindi è un pochino una destra che comincia ora a fare i conti però non ha ancora una strategia non ha ancora in testa chiarezza strategica anzi le dirò di più che purtroppo ad aggravare la situazione c'è che questo governo sta portando avanti in Parlamento una legge che io giudico letale se dovesse passare letale rispetto al diritto alla salute ai valori dell'universalità eccetera e che è il regionalismo differenziato è il regionalismo differenziato guardi che non è uno scherzo è a parte il fatto che è una secessione vera e buona perché si tolgono delle funzioni allo stato centrale e le stesse funzioni si trasferiscono alle regioni lei si immagini cosa vuol dire quando tu hai un servizio sanitario nazionale e le competenze sulla sanità le passi dal ministero alla regione il rischio è di perdere tutto quindi non credo che la Meloni personalmente che per certi versi io anche apprezzo perché mi piace la sua volitività mi piace come dire il suo modo di fare politica ma non credo che abbia non credo che abbia un'idea contro la sanità pubblica però la compagine governativa è fatta da più anime Forza Italia sulla sanità ha sempre espresso un orientamento neoliberista voglio dire la Lega sta tentando di far fuori il servizio sanitario nazionale quindi diciamo che la Meloni ha le sue brave gate da pelare naturalmente le gate da pelare ce le abbiamo noi cittadini rispetto alla Meloni Allora professore la ringrazio anche perché la sua franchezza che peraltro ben la si conosce emerge anche su questi temi delicatissimi le pongo l'ultima domanda lei ha giustamente lamentato di non vedere una strategia che è la cosa più importante chiamiamola anche questo percorso di rinnovamento che si spera avvenga per il sistema sanitario nazionale secondo lei nell'ambito della strategia questo percorso di rinnovamento dovrebbe partire da un nuovo patto sociale con i cittadini basterebbe non dimenticarsi di questo patto sociale per veleggiare già in un alveo di tranquilla sicurezza o sbaglio no non sbaglia e le dirò di più non solo un patto sociale si tenga forte le faccio un'anticipazione che pubblicheremo poi fra un paio di mesi secondo me le cose nella sanità sono talmente compromesse che ci vorrebbe addirittura un patto tra la destra e la sinistra cioè ci vuole un'intesa d'accordo a salvare l'articolo 32 tutti io ho visto che loro hanno fatto una legge contro il femminicidio l'hanno votata sia la destra che la sinistra questa è una cosa che a me è piaciuta molto mi sono chiesto ma perché non fare la stessa cosa per la sanità pubblica perché non ce la facciamo a mettere le pezze colorate ci vogliono delle riforme dobbiamo aggiustare delle stupidaggini che sono state fatte che mi permetto di riassumerle la prima è aver rotto i rapporti con l'economia lei si ricordi che all'inizio la sanità aveva una programmazione sanitaria che doveva essere compatibile con la programmazione economica questa è saltata non c'è più io non posso passare a difendere la sanità dall'economia l'economia deve essere un'alleata della sanità perché la sanità produce reddito produce valore eccetera eccetera seconda stupidaggine abbiamo rotto i rapporti con la prevenzione noi siamo un paese nel quale aumentano le malattie non diminuiscono ma se continuiamo ad aumentare le malattie la spesa sanitaria diventerà ingestibile quindi dobbiamo ritornare a produrre salute come ricchezza e lo possiamo fare ancora meglio della riforma sanitaria del 78 perché oggi in costituzione il diritto all'ambiente è diventato un diritto di quarta generazione quindi possiamo fare un discorso abbinato salute e ambiente terza questione doveva essere una sanità privata integrativa sta diventando una sanità sostitutiva noi non possiamo sostituire il diritto con la sanità privata con la sanità privata lei prima giustamente citava il reddito ma scusi ma sa cosa vuol dire curare la gente sul reddito vuol dire semplicemente che chi c'ha il reddito è curato chi non ce l'ha non è curato il che vuol dire che ti sei mangiato l'articolo 32 ecco poi alcune cose vanno aggiustate abbiamo fatto fuori i comuni ma i comuni sono le comunità di salute abbiamo concentrato tutto alle regioni ma scusate ma vogliamo ripensarci e sull'azienda non ne abbiamo parlato per niente ma una riflessione la vogliamo fare o no secondo me questa azienda non ha funzionato un gran che bene e lì è stato proprio un dramma nel senso che abbiamo nelle aziende si vede proprio il cambio le aziende non perseguono il diritto alla salute le aziende perseguono scopi di bilancio scopi di continuimento della spesa ecco vede insomma un po' poi il lavoro gli operatori tante altre cose ma io penso che se non aggiustiamo queste tre o quattro contraddizioni non andiamo avanti sono un pochino pessimista come capirà pessimista sì però come avviene anche nel suo ultimo pamflet che facciamo ancora rivedere medici contro i cittadini c'è quel sottotitolino che è da non sottovalutare un conflitto da risolvere perché Ivan Cavicchi non può che non può non volere che il tutto trovi una soluzione come è giusto che sia aspettiamo con ansia di leggere allora il prossimo volume ma intanto per Castelvecchi Editore c'è questo che è disponibile come ebook che quindi vale la pena dirlo professor Cavicchi sapevo che sarebbe stato un piacere oltre che l'onore di intervistarla lo è stato al punto che se avessi bisogno di disturbarla ancora per una saggia conversazione mi permetterò di farlo se lei è d'accordo sono d'accordo la ringrazio della sua amabilità è stata un'intervista interessante le interviste ha ragione lei o sono vere o non sono vere non si scherza su sta roba qua la posta in gioco è troppo alta dobbiamo avere il coraggio di abbinare anche la ricerca della verità la ricostruzione della verità per capire bene gli errori fatti e per correggerli sa che le devo dire in conclusione a proposito dalla sinistra la sinistra ovviamente ha molte responsabilità ma anche ha molti pregi intendiamoci è l'autocritica che è difficile è molto difficile fare autocritica e invece bisogna fare autocritica in amore per l'amore della verità la ringrazio davvero molto per l'ospitalità è stato un piacere enorme professore buon lavoro in attesa del prossimo volume le auguriamo lunghissima vita buonasera arrivederci grazie tante grazie arrivederci grazie